A Tiene, in Villa Fabris, il Centro Europeo per il Patrimonio, Scuola Internazionale di Restauro, si conferma come straordinaria opportunità per il territorio. Se ne è parlato in un convegno. Non si può essere validi artefici di un restauro se non si ha arte visiva, ovvero la capacità di riconoscere come l'artista ha costruito la sua opera. Bisogna saper entrare nell'opera, in quanto l'aspetto estetico è il frutto di una struttura tecnologica. Ecco perché il Centro Europeo per il Patrimonio è una scuola dove si insegna innanzitutto a fare analisi tecnologica. In altre parole, solo chi è in possesso di conoscenze e capacità tali da poter realizzare un'opera artistica può cimentarsi nel restauro. E non c'è attestato riconoscimento istituzionale che abbia un valore più alto e più affidabile di quanto dimostrano le mani sapienti di un abile artigiano. Renato Giangualano, Max Leutenmaier, Andrei Zerfeld, Mauro Patrini e Gabriele Curtarolo, qualificatissima rappresentanza, come testimoniano i rispettivi curricula, del corpo docente della Scuola Internazionale di Restauro attiva in Villa Fabris a Tiene e accanto a loro Fol Dietrich Elbert, presidente dell'omonima fondazione, hanno affascinato i partecipanti al convegno intitolato Restauro Antichi Saperi per Mestieri Moderni, organizzato dall'Asso Artigiani Mandamentale, offrendo un saggio della passione e della competenza che essi mettono in un'attività fondamentale per la tutela del patrimonio artistico e per evitare che la professionalità di valenti artigiani vada dispersa. Sono stati più che sufficienti quei 45 minuti occupati dai loro interventi per comprendere, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto sia preziosa e importante la presenza della Scuola Internazionale di Restauro di Villa Fabris. Legittima quindi la soddisfazione espressa in precedenza dagli altri intervenuti, a partire dal presidente dell'Asso Artigiani Mandamentale, Antonio Benetti. Egli ha ringraziato l'amministrazione comunale tienese che soprattutto attraverso i sindaci Attilio Snec e Maria Rita Busetti hanno condiviso e sostenuto il progetto della scuola e poi, per i contributi garantiti per il restauro della villa, la Regione Veneto, nella persona del presidente del Consiglio regionale, Marino Finozzi. Siamo convinti, ha detto Benetti, che questa sia una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro territorio, per mantenere professionalità che nessun altro ha, per riqualificare le imprese già attive nel settore e per offrire ai giovani interessanti sbocchi lavorativi. Un gioiello, è come tale un grandissimo regalo. Così Maria Rita Busetti ha definito il centro europeo per il patrimonio. A Tiene, a suo giunto, abbiamo oggi la fortuna di avere una struttura d'eccellenza che ci consente di mantenere vivo quello straordinario e profico rapporto tra la mente e le abili mani di un artigiano. Finozzi ha poi sottolineato l'impegno della Confartigianato teso a salvaguardare questi valori e di cui sono prova tangibile il centro di Villa Fabris e altre realtà presenti in Veneto, come la scuola di Alvisopoli, aventi la medesima matrice. E proprio sul fiorire di queste strutture, votate innanzitutto a trasferire conoscenze che altrimenti andrebbero perse, si è soffermato il segretario generale dell'Asso Artigiane Vicentina, Carmelo Rigobello. Tiene, Este, Asolo, Alvisopoli, Soriano nel Cimino, scuole che oggi compongono una rete di centri di eccellenza per il restauro e l'artigenato artistico, sono una ricchezza anche per l'opportunità che offrono di mettere a confronto maestri ed allievi di culture diverse. La loro professionalità, osservato, viene messa a servizio dell'arte e del territorio affinché una maggiore fruibilità del nostro patrimonio artistico sia ulteriore motivo di richiamo per i turisti e quindi fonte di benessere per le comunità locali.